Oggi in concomitanza con la visita di Salvini a Belluno abbiamo scelto di non entrare nel suo giochetto mediatico ma di fare un'iniziativa che riporti i temi del territorio su questa campagna elettorale. Abbiamo scelto di occupare simbolicamente il demanio idrico, uno degli uffici della Regione Veneto in cui in questi anni si è dimostrata la vera portata della gestione leghista di questi territori. Perché per noi bellunesi la Lega è il potere centrale, è quella che parla di ruspe in questa campagna elettorale attraverso la bocca del fascio leghista Salvini, ma dove le uniche ruspe targate Lega Nord e Regione Veneto le abbiamo viste sbancare tutti i giorni il nostro territorio per fare culture dell'intensivo e dall'altra parte le abbiamo viste in Valle del Mis da molto vicino sventrare una valle che grida vendetta da tutte le parti. Per riportare un po' i temi sulle questioni reali e per rilanciare anche la battaglia sul trasporto pubblico abbiamo scelto oggi di essere qui e di non cedere al ricatto xenofobo di Salvini. Grazie a tutti.